Sì, agevolabile. È considerato investimento ammissibile, pertanto nessun dubbio sul tipo di agevolazione. Per quanto riguarda il fotovoltaico nel mezzogiorno, dobbiamo considerare che abbiamo la possibilità di arrivare addirittura al 95% del credito di imposta. Questo perché? Perché come centro studi abbiamo trovato una soluzione tecnica per certificare la parte centrale elettrica Smart Grid. Quindi pertanto riusciamo ad aggiungere al 45% del mezzogiorno anche una quota a parte del 50%, arrivando addirittura al 90% o 95% dell'investimento effettuato.